Cosa prendiamo? Fa caldo, prendiamo una birra. Due cervezas. Grandes? Sì, grazie. Grazie. Sembrano le tanti bianchi. Hai mai visto uno? Certo che non hai mai visto uno. E tu che ne sai? Che c'è scritto? Anis del toro. È un liquore, lo assaggiamo? Disculpami, chiediamo due anis del toro, per favore. Con acqua? L'acqua? Non lo so, è buono con l'acqua. Buonissimo. Chiedi un'acqua? Sì, grazie. Grazie. Fa di liquidizia? Tutto so di qualcosa. Sì, tutto so di qualcosa. Soprattutto le cose che hai aspettato da tanto tempo. Smettila. Hai iniziato tu? Io mi stavo divertendo. Ecco, appunto, cerchiamo di divertirci. Ci stavo provando. Dicevo che le cose assomigliano allefanti bianchi, non ti sembra un'osservazione intelligente? Sì, certo. Volevo assaggiare questo anis del toro e l'ho fatto. Tanto è quello che facciamo sempre, no? Assaggiare cose e provare cose nuove. Sì, mi sembra di sì. Sono belle. Veramente non sembrano allefanti bianchi, però ricordano il colore della pelle. Ne prendiamo un'altra? Va bene. Domas, grazie. La birra è bella fresca. È buonissima. Senti. Guarda che è un'operazione veramente semplice. Anche la si può chiamare un'operazione, secondo me neanche senti niente. Noi andiamo lì e io sto con te, sempre, va bene? Poi che facciamo? Poi stiamo benissimo. Stavamo prima. Me lo puoi sapere? Perché è l'unica preoccupazione che abbiamo. È l'unica cosa che... Grazie. È l'unica cosa che ci fa davvero stare tristi. Quindi tu pensi che se noi lo facciamo poi torna tutto a posto e siamo felici? Sì, credo di sì. Però non devi avere paura perché io conosco tanta gente che l'ha fatto. Pure io, però non ho tutto ecco di felice. Senti, guarda, se ti senti obbligata io non voglio che tu lo faccia. Cioè non voglio che tu lo fai se ti senti obbligata, ma tanto so che è semplicissimo. Tu lo vuoi davvero? Credo che sia la migliore soluzione. Però io non voglio che tu lo faccia se non vuoi. Quindi se io lo faccio, tu sei felice, tutto torna come prima e mi vuoi bene. Ma io ti voglio bene. Lo sai che ti voglio bene. Sì, ma... Sarà ancora bello se dico che le cose sembrano elefanti bianchi. Ti farà piacere? Mi farà tanto piacere. Anche adesso mi fa piacere, solo che sono un po' preoccupato, quindi non ci penso. Se lo faccio non sarei più preoccupato. Io di questo non mi preoccupo, io lo so tanto che è una cosa semplice. Lo faccio. Perché non me ne importa niente di me. Non ho capito che vuol dire. E non me ne importa niente di me. Beh, però importa a me. Sì, ma a me no. Lo faccio e andrà tutto bene. Sì, ma a me no.